Buongiorno Filippo Diodovici dalla sala operativa di G, mercati europei poco mossi nonostante un brillante indice Zev, la fiducia in Germania è salita nel mese di aprile da meno 3,6 di marzo a 3,1 risultando ben superiori alle aspettative degli addetti ai lavori. Bene il settore del lusso in Europa grazie all'annuncio da parte del collosso dell'e-commerce tedesco Zalando che pubblicherà un risultato operativo del primo trimestre ben migliore rispetto alle attese, acquisti soprattutto su Adidas, H&M e su Inditex Zara. Grande attesa in serata negli Stati Uniti per il gigante dello streaming Netflix, attese per un'utile per azione intorno ai 0,58 dollari per azione e ricavi pari a 4,5 miliardi di dollari. Sarà soprattutto interessante valutare anche l'incremento di nuovi sottoscrittori degli abbonamenti Netflix, le aspettative sono circa per un incremento di 9 milioni di utenti, 1,6 negli Stati Uniti e 7,3 milioni a livello internazionale. Netflix sta infatti preparando un forte aumento della competizione nel settore nel 2019 dopo già l'ingresso di Amazon Prime Video, anche l'espansione da parte di Disney con la sua nuova piattaforma Disney Plus e poi anche Apple pronta a fare tanti investimenti in questa nicchia di mercato. Con questo è proprio tutto, buon trading! Grazie a tutti!